Senza ferri, vai Orazio, senza i ferri anteriori, Rio di Roberto, queste le variazioni proposte. 200 al lancio con Violante Febi, leggermente discosta dalla prima fila. Ora si ritrae anche Zelda Zack, macchina che accelera. Lo stacco Sapphire Hors si porta al comando nei confronti di Vai Orazio, quindi alla corda Singer del Ronco, all'esterno Uralio P, che cerca la progressione per andare al lato di Sapphire Hors, che per il momento si mantiene comunque in evidenza al completamento della prima curva. Sapphire Hors, che davanti alle tribune completa i primi 400 di corsa, nell'ordine del 29 e mezzo. Sempre davanti a Vai Orazio, poi terza posizione della corda Singer del Ronco, al suo esterno gravita Uralio P, che offre punto di riferimento a Violante Febi. Quando i 600 vanno via nell'ordine del 46 abbondante c'è stato un cospicuo rallentamento da parte del leader che ora prova a gestire i parziali a proprio piacimento. Tatecchè sulla piegata, prende ancora in mano e va al paletto degli 800 con un 16 abbondante di frazione, che fa 1-3 abbondante per i primi 800 metri. Ora davanti alla retta opposta, sempre Sapphire Hors al comando. Il chilometro in 1'18 e mezzo si accelera ora inevitabilmente con Uralio P che va a pungolare il leader. Poi in terza corsia si fa vedere Rio di Roberto, al lato di Zelda Zacca. La corda c'è sempre Vai Orazio. Ora è cambiato il ritmo della corsa con Sapphire Hors, che comunque è sempre al comando davanti a una terziglia. Quando si entra in addirittura d'arrivo, Sapphire Hors che cerca di scappare, ne ha preso un paio a Vai Orazio. Poi più indietro c'è anche Uralio P, ma Sapphire Hors si mantiene ancora in evidenza nei confronti di Vai Orazio. Poi ancora Singer del Ronco, Sapphire Hors che ha gestito tutto al meglio, viene a concludere nei confronti di Vai Orazio e Singer del Ronco. 43-3 a chiudere, piano la prima parte, accelerazione abbastanza violenta nella seconda e vittoria per Dario Battistini e Sapphire Hors. Il numero 4 al primo posto, 2-1 e mezzo, il tempo totale 1-15 e 6, la media al chilometro. Il training dello stesso Dario Battistini, così come i colori, il 4 al primo posto davanti all'1 di Vai Orazio, al 2 di Singer del Ronco. È tutto per la nona dalle capannelle. Grazie a tutti.